Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del Younger Games. Siamo qui con Nonno, Tione, Faro, Mir, Max ed Elsie. Allora, server dei pixel, come al solito. Grazie Nonno per gli effetti speciali. E allora, cosa... dove andiamo? Tulu Island! Ok, Tione hai fatto il party, ci siamo. E subito, partenza immediata, 24 su 24. Modestamente, quando faccio io il party. Quando faccio io è sempre un fail. Che belle cose. Che bello, mi sa che abbiamo rubato il posto ad un VIP entrando di botto. Bellista. 10 secondi, inizio dal gioco... Mamma mia, come mi piace iniziare subito il gameplay così, eh? Allora... Ah, è bello entrare subito e iniziare a giocare. Dov'è la fettina di carne? Nonno, sei a fianco a me. Ragazzi, ma sono cambiati i kit? Ah, sì, il Myth Master è la spada in legno ora. Ah, ok, eccolo qua. È un buono di mezza gata, però stanno facendo un po' di ribalancing, quindi... Allora... Eh, ok. Mi si è caricato un chunk! No, vabbè. Com'è che si è caricato nel chunk? Andiamo adesso di chi? Alle mie spalle, alle mie spalle. Sì. C'è un altro che ci segue... Stinger. Vabbè... Lo ossetteremo attenti alla lava. Ecco. Ubis! Oh, no! Oh, scusate! Oh, scusate! Cos... Era nonno, era nonno. È la mia mania di tirare... Max, non so un capriolo come me. Lasciatete. Ah, c'è Max... Ok. Ho scrivato dal lato il capriolo. Per un secondo. Chi è quello? Anzi... C'è... C'è Kanguru HD qua. Dai! Attenti a non farvi settare subito, ragazzi. Chi siamo? Ma ci c'è il Kangura. Bravissima. Io lo vedo proprio nel muro. Il cane di Kangura è arrivato a tutti. Se fa cosa tu ti arresta. Lascia che non male il kit è arrivato. C'è uno che scappa di là con un'arma in ferro. I am. Da cavaliere con la spada in oro. Oh! Non dà più looting la spada del Myth Master. No! No. Raga? Stanno facendo... Un po' di corridoi. È uno in ferro sotto di noi. Quello che si può fare, Rumirio. E anche te. Dove è sotto, ragazzi? È sotto qua nella casa fatta con il tetto di paglia. Quello dove sei andato tu adesso, anche. Ma sono io, eh? Comunque sì, la me la do o la ho presa io all'inizio? Ah, è nonno. Ah, ok. Perfetto. È anche un cavallo. Eh sì. Ho spawnato per sbaglio, scusate. Ah, devi più plus ai cavalli? Cavalli? Sì, non diciamolo tanto in giro, sennò poi mi offendo. L'ho detto io che era un altro. Ce n'è anche un altro, Dio, dietro di noi. Andiamo a Farmin di qua. Boostatemi! Boostatemi! Eh, ma questo sta troppo... Morto. Come è morto, Farmin? Non so se c'è... Nonno, io sono dietro di te. Bravissimo! Mamma mia, nonno! Grandissimo! Grandissimo! Non grande! Sto per legare! Uff! Com'è? C'è una? Cazzo! Non so sul muolo che stava sfrecciando. È davanti a te Elsie! Elsie, ball! Nonno, che hai trovato una spada decente in più? Yes! Un sword! Sono fatta la regina! Ucciso! Elmo in oro, buono! Grandezione! Ho preso qualcosa anch'io finalmente! Vai, torniamo di là! Aspetta! Elsie, nonno, fermatemi un attimo, non rimaniamo in... Ah no, Tione è quello! No, no, dov'è? Sì sì, sto dietro! Ah, eccoti qua! Ok, siamo tutti uniti! Perfetto! Faro? Vi do... Vi do i lutti! Il primo che li prende ha vinto! Io sono morto! Allora, vi do questo, 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 questo! No! Io vorrei una spada, dai! Uh, bello! Ho anche un po' di spade io, eh! Aspetta, eh! No, non mi serve niente! Mi serve, non mi serve! Io, fammi per venti secondi! Quindi sto fermo! Io la testa di... Hai pixel head! Ha! Tolla! Ragazzi, a chi serve armor? Allora, io piedini! E piedini e testa! Allora, piedini in ferro! In ferro? Io in ferro! Allora... Ok, piedini in chain? No, ce le ho anche io! No, ce le ho anche io! Io le vuole! Ti vuole! Ti vuole! Ti vuole! Eh sì, piedini ce le hai? Sì! Sì, ce le ho in chain! Quindi sono posti! Grazie a prendere! Oh, che ce sono! Oh, poi sono scuoteto! Te la tieni tu! Scusate, io sto andando un po' a giro da solo che... Bravo! Lasci qui da soli! Tanto voi state messi bene! Sto andando a cercare le altre persone! Ok! Sì! Almeno arriviamo al di me! Ok! Continuiamo da qui, sì! Sì! La, in quel villaggio là ci sono stati davanti! Eh no! Non ancora! Tengo di ricordarci! Io ho trovato degli stivaletti in pelle chiamati Cinderella... Sì, sì! Sono bianchi! E adesso balli meglio! Bianchi, fortuna 10! Per non saperne leggendo e scrivere, li metto! Io sono andando! Oh, c'è qualcuno! Un altro! Un altro! Sono equippati bene! Non come noi! Andiamo insieme Elsie! Io non ho... Non ho bianchi, quello problema! Uh! Quanto corre? Occhio Elsie! Ci hai dietro! Ci hai dietro! Uno è stato ucciso! No! Ci sono altri! Cazzo! Il tipo è morto! Bella! Bravo Max! Grazie! No! Sono morto! È lì! Ragazzi quanti siamo noi? No! Il tipo è morto! Cazzo! LoL! Il grido di morte di Elsie! Ci devo facciare gran elsie! Sono un hachifu... Un hachifu... Un hachifu... Un hachifu! Un hachifu! Ricordiamoci quanti siamo noi Io, Tione, Elsie Max E Nonno Siamo rimasti solo noi C'è anche Mindy Ippo Mindy Ippo 2 Vado a luttare il centro Perché ci sta che ci sia la Blitzstar E poi vi lancio il regalino dal cielo Perché ho voglia di farlo No 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 Yes I'll do me sir Eccola lì Badiss Ha preso la Blitzstar Sta arrivando La Pagolessa Nooo Ho giusto Tione Ho giusto Tione Ti odio Io ho chiuso in un angolo Ho avuto paurissima aiuto We are going to the D Oh no Dio Non ancora Cosa sta succedendo? Ragazzi Mi stai seguendo tipo la guerra dei mondi Aiuto Bueno Yes we are actually Ah Mindy Ippo Cioè ce ne avevamo un altro contro di noi Sì che è appena morto Arratifico il ti odio Invito tutti a disiscriversi dal suo canale Dai Tione Non è vero Ma se io uccidessi Max? Non sei venuto Non è mica in pace Che ne sa più Mi sei spuntata davanti così Io mi sono fermato subito Lo spodale Assurdo che sei andata avanti Ma Dio E siamo in 5 Su Facciamola bella dopo Tu provi Cus Nell'uccidere La bella mici Non è vero Ma il network Scrivetevi al canale Legendle Gamers Iscrivetevi al Legendle Gamers Eccoci qua Deathmatch Sì la smettete di usufruire del mio canale Per fare pubblicità? Sì la smettete di usufruire del mio canale Kitty puoi stare un attimo fermo in un angolo? No perché? Dai nonno che vuoi fare? Dai Ok Nonno contro Max Ok Pronto? Vai nonno Pronti? 3 2 1 Vai No Chiametta Tim Non mi abbandonare Ti abbandonare Ah Mannaggia Dai Eh ragazzi almeno sono arrivata in finale Per una volta non ho fatto il deathmatch No? Come Assistendo così Come un fantasmino Vabbè Anche stavolta non ho vinto Tanto per cambiare È il karma Grazie nonno Comunque te lo meriti Dai sei un bravo VIP plus Va bene ragazzi Anche questa volta è andata Un applauso per la regina Grazie grazie Prego il sipo Che ti sono morito No per te no Metti il fischio Provo il sipo Come no Oh Per te Per te Grazie Ecco il nostro campione Saluto nonno Ciao Bikini man Dovete sapere Una piccola storia di nonno Vi raccontiamo questo aneddoto Che Apixel in persona Ha trovato nonno In game E gli ha regalato il VIP plus Perché gli piaceva la sua skin Ne aveva anche creato l'immagine Quindi questo mi fa pensare sia un pedofilo Bikini me Ma non è vero Ma dai Sì Sì Vabbè Vi ringraziamo per averci seguiti ragazzi Ci vediamo nella prossima puntata di Hunger Games Ciao Ciao ragazzi Bella Ciao